la print sprint nasce 30 anni fa come un'azienda di fotocomposizione via via negli anni si è evoluta e oggi siamo un service di lastre digitali e mobilitazione di stampati sia offset che digitale oltre ad essere anche un service di stampa digitale. I nostri clienti sono tipografi ed editori a cui forniamo dei servizi di stampa digitale e di lastre offset. Nel caso della stampa digitale riusciamo ad avere tempi molto molto rapidi quindi riusciamo a fornire i nostri clienti con dei tempi che sono anche per loro inaspettati. La nostra sfida è quella di scegliere sempre le giuste tecnologie che ci permettono di automatizzare i processi e ottenere il massimo delle performanze e ripetibilità dei nostri prodotti. Dovendoci trovare a risolvere la problematica di tante micro commesse di stampa digitale il nostro orientamento era quello di ridurre drasticamente i tempi di ripaggio dei file e dopo un'accurata scelta e visione di vari prodotti abbiamo puntato sul prodotto EFI che con i suoi RIP top di gamma permettono di rasterizzare file anche da un gigabyte in pochi secondi. Questo ci permette di dare un flusso di lavoro continuo ai nostri motori di stampa senza attese per quanto riguarda la fase di rasterizzazione. La nostra scelta su Fairey è caduta quando abbiamo capito che la EFI poteva darci un pacchetto di prodotti che potevano essere integrati perfettamente tra di loro. Tra cui una delle cose più importanti che ha questo tipo di prodotto è la linearizzazione dei tre motori di stampa che abbiamo in sede permettendoci di uscire in modo uniforme tra un motore di stampa e l'altro. Inoltre l'integrazione del DSF con il RIP EFI ci permette di velocizzare tutte quelle che sono le micro commesse di stampa digitale e pertanto abbiamo ridotto i tempi di prestampa aumentando di gran lunga la nostra produttività. Oggi riusciamo con questo pacchetto software della EFI di produrre circa 200-250 commesse al giorno di stampa digitale. Print e Sprint vede un futuro sempre di più digitale. Per questo motivo l'azienda si guarda intorno per trovare nuove tecnologie di stampa e più in particolar modo sulle tecnologie a getto d'inchiostro. L'integrazione tra i vari software la farà sempre di più da padrona per fare in modo che anche i tempi di produzione vengano addirittura ridotti rispetto ai tempi attuali. Il nostro obiettivo è quello di produrre tutto quello che ci viene commissionato entro le 24 ore successive.